Per me sicuramente è un grandissimo privilegio perché il luogo è incantevole, la generosità degli spazi già di per sé invita in voglia a creare, a produrre, a mettersi in discussione e a condividere. Quello che mi piace di più in assoluto del progetto è che parla di vita, insomma è un progetto molto vitale. Dovrete avere a che fare col pubblico che sarà presente e che vi vedrà lavorare in diretta. Esatto, questa cosa sarà ovviamente complessa perché fa parte del processo creativo anche l'errore, per esempio, che di solito l'errore è l'elemento nascosto. Sì, è un po' come invitare il pubblico a una prova aperta, tutto quello che di solito è nascosto, è sommerso, è segreto, in questo caso viene donato e messo in scena se vogliamo.